Nessuno sa niente di nessuno, nemmeno di se stesso. Non sappiamo niente. Mamma, ti senti bene? Sta punendo se stessa per punire me. E se a volte immaginiamo di sapere qualcosa, è anche peggio. È meglio vivere senza sapere niente, che vivere nell'errore. Il nostro stato è alla porta della Casa dell'Eterno. No, non è lì. Non c'è una porta. C'è un abisso. Forse finalmente puoi dirmelo. Che cosa c'è in te che mi spinge a volerti tanto bene? Puoi trovare l'inferno e il paradiso in ogni luogo. Una piccola cattiveria. E le persone diventano un inferno l'una per l'altra. Un po' di pietà e le persone trovano l'una nell'altra. Il paradiso.